ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su telecittà sembrava una mattinata come le altre quella in piazzale cialdini a mestre con il classico via vai anche se ridotto vista l'estate all'improvviso invece alle 8 una donna che stava camminando sul marciapiede della pensilina è crollata a terra senza dare più segno di vita i passanti presenti ci hanno impiegato pochissimi secondi per chiamare il SUEM e chiedere aiuto e poco ci hanno messo anche i medici a raggiungere il piazzale ma il loro tentativo di rianimare la donna è stato del tutto inutile al momento non sono state rese note le generalità della donna ma il suo nome comunque non era conosciuto ai servizi sociali del comune di Venezia né alle forze dell'ordine particolari che sembrano definire una vita normale per la quarantenne vita stroncata all'improvviso da un malore rimaniamo a mestre e torniamo ad occuparci del dell'omicidio in ascensore l'uomo forse ucciso dopo una lite ne avevamo accennato ieri contrariamente a quanto si era pensato in un primo momento la vittima non era un ladro sorpreso nel corso di un tentato furto ma appunto si fa largo l'ipotesi che sia stato ucciso al culmine di uno scontro vediamo il servizio shock a mestre dove un uomo è stato ucciso in circostanze da ricostruire all'interno dell'ascensore di un condominio la vittima lorenzo nardello 32 anni di mirano aveva una profonda ferita alla testa ma cosa è accaduto i residenti hanno raccontato di aver sentito litigare con toni molto accesi tanto che sono stati loro a chiamare il 113 la polizia ha arrestato i due uomini che erano con la vittima due cugini di nazionalità moldava che sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria le indagini in corso a cura della squadra mobile della questura di venezia sotto la direzione della procura della repubblica presso il tribunale di venezia devono ricostruire ogni aspetto di questa tragedia i due uomini avrebbero raccontato che la vittima era andata a casa per derubarli ma la tesi non convince e chi conosceva la vittima è assolutamente contrario a questa ipotesi il 32enne avrebbe avuto qualche problema ma nessuno lo riconosce capace di aver fatto una cosa simile un'ipotesi potrebbe essere invece quella di un regolamento di conti il giovane secondo il riscontro del medico legale aveva la parte destra del cranio fratturata nel pomeriggio di ieri uno sconosciuto ha contattato telefonicamente una persona anziana di Schio in provincia di Vicenza riferendo che un familiare era in stato di fermo presso un ufficio di polizia poiché era stato coinvolto in un incidente stradale ritorniamo a parlare delle solite truffe che si tentano ai danni degli anziani per il rilascio il malfattore infatti richiedeva alla vittima di mettere a disposizione pensate addirittura degli oggetti di valore l'anziana donna anche grazie comunque alle varie campagne informative finalizzate al contrasto delle truffe ha chiamato immediatamente un proprio familiare che sua volta si è rivolto al 112 l'invito da parte appunto dei carabinieri è di prestare sempre la massima attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa chiedendo denaro per essere rimesso in libertà o a seguito di fermo delle forze dell'ordine si ricorda infatti che nel sistema giudiziario italiano per essere rimessi in libertà non si paga non è come negli Stati Uniti ma occorre un provvedimento del giudice in quest'ultimo caso senza far entrare in casa lo sconosciuto chiamate immediatamente ricordiamo il numero di emergenza il 112 Cronaca tragedia in autostrada un'auto è sbandata ed è finita fuoristrada un morto e un ferito l'incidente è avvenuto ieri sera in A27 poco dopo il casello di Treviso Nord Giampaolo Lunardonna 26 anni di Bassano del Grappa è morto nel tremendo incidente stradale avvenuto giovedì sera sulla A27 era in auto con un amico rimasto gravemente ferito stavano viaggiando lungo il tratto tra gli svincoli di Treviso Nord e Conegliano al chilometro 18 quando il conducente ha perso il controllo della guida l'auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guardrail un impatto devastante che non ha dato scampo a Giampaolo che si trovava al volante i pompieri arrivati da Treviso hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso il passeggero che è stato preso in cura da personale del SUEM e trasferito all'ospedale la polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi la polizia locale di Verona ha sgombrato un edificio di proprietà della provincia che si trovava in città in via San Giacomo dove erano stati programmati lavori per la messa in sicurezza sono stati trovati e segnalati per invasione di edificio due cittadini un marocchino e un tunisino irregolari sul territorio mentre le unità cinofile hanno rivenuto pure una trentina di grammi di stupefacenti e pronto per essere venduto al dettaglio nella zona di Borgo Roma il monitoraggio della polizia locale ha poi individuato ben 47 immobili abbandonati in città con i dati dei proprietari e che sono in stato di degrado fa ripuntate dunque sulla situazione degli immobili abbandonati che diventano o possono diventare teatro di illegalità e ancora cronaca e ancora un incidente questa volta fortunatamente non c'è il morto ma in ogni caso un ferito grave in uno schianto a Jesolo quello che è curioso di questa notizia è che il conducente subito dopo l'incidente si è allontanato lasciando appunto una persona ferita in auto grave incidente che è accaduto stamattina e appunto il conducente dopo essersi schiantato ha abbandonato i due passeggeri che c'erano dandosi alla fuga ed è tuttora latitante alle 5 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Leardo a Leardi all'incrocio con via Rino a Jesolo per un'auto finita fuoristrada dopo la perdita di controllo dell'autista che viaggiava con altre due persone a bordo di cui una è rimasta ferita i vigili del fuoco arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'auto mentre la persona ferita è stata presa in cura dal personale del SUEM e trasferita all'ospedale all'arrivo dei soccorritori il conducente era irreperibile i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente hanno rischiato di morire avvelenati a causa di una raccolta incauta di funghi ci è già successo di parlare di queste problematiche in questo periodo dell'anno fortunatamente questa volta prima di consumarli si sono recati alla sede di Treviso dell'ispettorato micologico dell'Ulss2 dove i tecnici hanno ritrovato tra i funghi raccolti ben 5 esemplari di cortinari orellano fungo velenoso mortale tale fungo è responsabile della sindrome orellanica lunga latenza i cui sintomi si possono presentare pensate anche dopo 14 giorni dal consumo compromettendo purtroppo in modo irreversibile i reni la quantità di funghi trovati nel cestino del raccoglitore un privato cittadino era sufficiente a far morire un'intera famiglia quanto accaduto conferma quanto sia importante se non indispensabile far controllare tutti i funghi trovati prima del consumo anche se si ritiene di essere un esperto raccoglitore i controlli sulla comestibilità dei funghi ricordiamo sono completamente gratuiti ancora cronaca è andata a fuoco l'ennesima auto ne parliamo spesso di questo tipo di incidenti auto a fuoco una volkswagen distrutta dalle fiamme nonostante l'intervento dei pompieri è accaduto nel vicentino a santorso l'auto ha preso improvvisamente fuoco ed è andata distrutta dalle fiamme momenti di paura stamattina a santorso lungo via albero bassi una delle strade che portano verso l'altopiano del tretto fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta per spegnere l'incendio i vigili del fuoco di schio sono ricorsi alla schiuma ad andare completamente distrutta è stata una volkswagen la squadra dei vigili del fuoco di schio giunta sul posto ha lavorato per ripristinare la sicurezza e bonificare l'area interessata dall'incendio l'intervento è terminato dopo circa un'ora è ogni tanto una notizia leggera anche nel nostro notiziario è diventato pensate un enigma che sta appassionando gli abitanti di pieve di soligo nel trevigiano c'è un trombettista misterioso ovvero una persona che da giorni a mezzanotte esatta fa risuonare nell'aria le note del silenzio la melodia appunto nata nell'ottocento e che sapete quella adottata dai presidi militari nel paesino delle colline trevigiane noto per aver dato i dati in natali scusate al poeta zanzotto è così iniziata una sorta di caccia al suonatore di mezzanotte che finora però non ha dato ancora esito le note del silenzio si irradiano infatti da punti diversi del comune mai esattamente identificati la ricerca del trombettista vive adesso delle informazioni che ciascuno a pieve si scambia anche sui social network nulla che sia configurabile comunque come un disturbo della quiete pubblica il sindaco stefano zoldan anzi collega all'anonima iniziativa alla designazione pensate di pieve di soligo a città veneta della cultura 2023 proprio grazie a un progetto di connessione tra musica e paesaggio e dopo questa notizia leggera linea a marisa sotto via e alla sua rubrica della storia oggi ci parla della storia delle biciclette ben ritrovati con la storia oggi parliamo della bicicletta un mezzo di trasporto antico ecologico ed economico e allora conosciamo la sua storia l'invenzione della bicicletta è attribuita al barone tedesco carlo von dreis del 1817 ma l'idea della bicicletta invece risale a leonardo da vinci che in un disegno del 1493 indicava due ruote un assi in legno un manubrio e una catena di trasmissione ma torniamo alla bicicletta del barone tedesco che viene chiamata draisina e si componeva di una ruota anteriore altissima un metro e mezzo poi ancora una catena di trasmissione del sellino e dei pedali all'inizio la bicicletta non ebbe un grande successo perché c'erano le strade sterrate ed era scomoda si preferiva il trasporto a cavallo però la situazione cambia le strade migliorano e quindi si diffonde tant'è che ci sarà il primo giro nel mondo nel 1884 a cura di Thomas Stevens e ci vorranno due anni la bici poi diventa il mezzo adatto agli spostamenti in città non inquina economica e si rivolge a tutte le classi sociali sia i ricchi che i poveri quanto alla sua categoria alla sua categoria c'è la bicicletta da città da pista poi ancora la bicicletta a noleggio le bike sharing poi la bicicletta da turismo e le tandem cioè la bicicletta per due persone la bicicletta poi pieghevole e anche a pedalata assistita la bici è la protagonista anche nello sport in quanto con il giro d'italia ma anche il giro in altre nazioni spagna e francia diventa veramente una competizione enorme e importante è una gara che si svolge tra maggio e giugno in tre settimane e qui abbiamo campioni famosissimi alfredo binda poi ancora fausto coppi francesco moser marco pantani e ovviamente altri la bicicletta poi si diffonde anche in europa soprattutto germania e olanda anche nel nostro paese e abbiamo città vocate alla bici quali in testa abbiamo ferrara poi pesero ma padova e treviso con la bicicletta si può raggiungere un chilometraggio dai 25 ai 40 chilometri orario inoltre ricordiamo una bicicletta particolare dedicata alle donne la graziella che risale al 1964 ed è stata ideata da una ditta da un'azienda di vittorio veneto la bicicletta quindi un mezzo importante che viene utilizzata nelle piste ciclabili ed è adatta per percorsi straordinari come il percorso palladio ville venete dolomiti colli e ugani e ovviamente tanti altri percorsi ricordiamo anche la ostiglia di cui abbiamo parlato recentemente quindi un mezzo alla portata di tutti e buone vacanze con la bici chiudiamo dando un'occhiata al meteo un promontorio anticiclonico si rinforza nei prossimi giorni estendendosi da sud ovest fino all'europa centrale portando sul veneto un tempo generalmente stabile con progressivo rialzo termico fino a raggiungere valori al di sopra delle medie del periodo prevarranno gli spazi di sereno a fronte di qualche periodo nuvoloso più che altro in montagna nelle ore pomeridiane associato a occasionali precipitazioni in prevalenza di contenuta entità il cielo dunque oggi sul veneto sarà sereno poco nuvoloso e le temperature saranno in moderato aumento specie in montagna e tutto per quanto riguarda l'informazione anche per oggi come di consueto vi auguro un buon proseguimento con i programmi di telecittà